Agli annunci non sono seguiti i fatti, i lavori di riqualificazione sul lungomare 9 maggio nel quartiere San Girolamo di Bari non sono stati avviati e così complice il maltempo si sono create due pericolosissime voragini. La prima larga 6 metri e profonda 3, la seconda distanza di 100 metri larga altri 3 metri per 3 di profondità. A segnalarle alla polizia municipale sono stati naturalmente i residenti e l'amministrazione comunale barese è subito corsa ai ripari. Il mare si è mangiato un pezzo di costa ma il comune ha provveduto alla messa in sicurezza delle due aree. Per il momento sono state transennate e nei prossimi giorni il comune di Bari provvederà a riempirle con materiale adatto capace di garantire la messa in sicurezza. Ma sono interventi tampone dal momento che con l'arrivo di ulteriori mareggiate si potrebbero creare voragini altrove per questo che infatti è necessario intervenire per proteggere tutta la costa con dei frangi flutti, cosa prevista dal progetto di riqualificazione del lungomare. Il problema poi non riguarda solo il lungomare del quartiere San Girolamo, stessa situazione a San Giorgio, Palese e Giovinazzo. Nel canto suo l'amministrazione comunale barese ha già incontrato la capitaneria di Porto per chiedere l'autorizzazione sui lavori di messa in sicurezza da effettuare sulla costa.